ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono anna e oggi siamo sullo speciale 300 iscritti anche se in realtà non c'è uno speciale così che in realtà 300 iscritti non si dovrebbe anche fare come speciale si deve fare i 500 poi il 1000 però vabbè io faccio uno speciale questo speciale no certo è anche uno iscritto comunque in questo video farò la reazione ai miei primi video i miei primi quattro video che ho fatto tipo un anno fa che proprio io ho smesso per tipo un sacco che ho ricominciato quattro mesi fa però questi qui sono tipo i video che facevo col telefono vecchio veramente non si vedeva sto schifo non so se certi l'avranno visto cioè se quelli nuovi l'avranno visto però vabbè e poi cioè i video vecchi sono anche quelli tipo questo nemmo accrossi in isola che dura cinque minuti con 214 visualizzazioni solo quello vabbè comunque cominciamo col primo video vediamo la presentazione del secondo canale allora mettiamo pure i sottotitoli per fare ancora più ridere la scritta di youtube no magari no vediamo come parlavamo io lollo vediamo la lingua di lollo e anno benvenuti in questa nuova puntata oggi è il nostro vabbè già benvenuti in questa nuova puntata la stessa cosa che dico adesso non ci può anche stare il primo canale è il nostro secondo canale è il nostro primo video del nostro secondo canale quante volte ci stiamo a vedere è il primo canale è il primo video secondo canale ce l'ho fatto dopo tre ore però va bene sono solo dettagli non c'è nessuno al mio tale basta nel nostro secondo canale il nostro primo canale abbiamo finito per motivi mammistici che bel motivo motivo mammistici cioè non potevo dire motivo perché nostra mamma non vuole che usiamo il suo account no motivo mammistico naturalmente però va bene non so come si dice e oggi vi ho fatto un nuovo mondo che è come vedete poi come filmavo cioè filmavo alla diagonale cioè non si vedeva nulla si vedeva a metà dello schermo tipo ci sono dei punti anche nei video che ci sono dopo che veramente in aria e facciamo skyblock per fare così puoi notare il video quanto dura 3 minuti e 34 notare notare non costarvi un comando però 150 si perché da poi mi sono messa anche io guardando 3 miliardi di volte sinceramente per guardare se mi ammettevano i commenti sinceramente io faccio keep inventory se no veramente muoio i nostri video saranno molto corti perché molto corti e abbiamo già preso mezz'ora e beh come si fa me mezz'ora si e ho già un pochino di roba le trocce strumenti saranno molto corti perché io lo sto facendo col telefono come vedete e ovviamente Anna ha riempito il telefono di video sciocchi basta e non parlare e non parlare e non parlare e non dire niente sto ditto non fa nulla non respirare non parlare e non fa nulla ecco non giocare su minecraft faccio l'idea si invece anche te faccio l'idea vieni qua no lollo mi ha abbandonato mi ha abbandonato la tristezza scusate un secondo ok scusate si vede se si vede un po' male perché è un po' stucato è per se invitare se si vede se si vede vabbè vabbè tutta perché non è il telefono non è a cadere ovviamente certo che non è a cadere il mio telefono è mignone come lo ho chiamato si infatti era mignone cioè se voi vedevate il mio telefono adesso il telefono vecchio il telefono dell'anno di quando tipo dell'anno scorso in poche parole di questa estate l'ho preso d'estate è tipo un quarto neanche del mio telefono nuovo quindi capite sono stato tipo non lo so è stato grande però comunque era minuscolo quindi faceva video schifosi infatti si vede anche da queste parti nere proprio veramente però questo non c'entra niente quindi vabbè noi siamo delle persone leali e molto leali perché non ne siamo leali ma molto leali quindi siamo leali ma molto leali cosa volevo dire siamo leali ma molto leali vabbè in quel periodo non so non sapevo parlare non lo so perché però vabbè queste sono solo cose aggiuntive andiamo avanti non l'abbiamo mai detto in tutta la nostra vita già io al massimo alcune volte dico che cavolo però la mia sorella dice porca palettina molto vabbè in questo momento non lo so la Federica dice che due palle scusate scusate un secondo facciamo pausa sì allora sono morto perché ovviamente la corrente mi ha trasportato qui e ho svolgato e prima di tutto siamo assentati per motivi di nonnine nonnine motivi nonnine che si insaciavano non lo so puoi notare che adesso il mio telefono tipo filmava la metà dello schermo tutto buio si vedeva l'angolo del computer vecchio che faceva schifo e l'olio è tornato o l'olio torna sempre comunque cosa vuoi fare se stai qui o sei qui se no o non stai qui momenti di litigio come dico oh madonna mi ha impazzito l'olio siamo messi d'accordo per giocare in multiplayer ecco allora ricordatevi la parola ci siamo messi d'accordo per giocare in multiplayer non ci siamo mai messi d'accordo quindi alla fine ti ricordi l'avremmo detto ma non l'abbiamo mai fatto però vabbè dai sono e se ci vedrete diteselo si come se io diteselo ah non ci vedete è rotta così come se c'è ancora la parte in cui dici che non ci vedremo mai che non che non ci faremo mai vedere ah si si ce l'ho dopo comunque dopo nell'altro video comunque c'è ho detto se ci vedete ditecelo come se avessi avuto 300.000 iscritti ce n'avrò avuto uno lollo basta fine cioè non è qualcosa non lo so vabbè è server ghost world cup oh no ghost world come ti vuoi di macraftlandia ghost world ok altrimenti no ma pare non sei non mi piace insieme non mi piace sempre fare sky scusa sei giusto allora domani alle 9.30 facciamo non facciamo le 9.30 no scusa domenica dai lo stesso adesso non lo so voglio dire cosa ho detto amiche amiche lingua cinese già mi dicebbe oh dio addio la mia armatura ciao a tutti addio la mia armatura cortissimo adesso ci mettete 100 miliardi di non mi piace chi lo dice scusa beh forse è fallita scherzo sono un mazzo veramente contento sono un mazzo come dice ma siamo una cosa buffa prima extra extra buffa extra devo scrivere con il video extra buffo guardate guardate il mio personaggio sta morendo oh oh non posso sbagga bisogna tanto aspettare stupiamo un attimo spaggati stupido spaggati spaggati vabbè non mi sbaggavano molto vabbè guardate è bella mia armatura adesso 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 mi uccido dai basta io sono coltivata come io basta cosa hai detto un coltivato no no voglio risentire cosa sei scusa dai basta io sono coltivata come io coltivata un coltivato un coltivato perché non hai visto mai nel canale la vita quel coso di aerobrine che abbiamo fatto molti godi quando abbiamo fatto tipo la roba di aerobrine si vabbè non l'ho mai fatto ma era bellissimo comunque un altro video che vorrei far vedere penso che siamo già a 9 minuti speciali 10 iscritti speciali 10 iscritti che c'ha 99 visualizzazioni notare la forma di lollo qui così proprio le braccia lo schermo dove ci sono anche ci sono anche i pulsanti del computer la luce divina perché non è tipo che tocco si vede dove tocchi cos'è più bello come si fa si può adesso voglio provarci scusate ah non si può adesso aspettate facciamo un secondo ok ce l'ho fatta vedete ecco ce l'ho fatta comunque vedete questa parte qui che sembra che c'è la luce divina qui già la forma di lollo guardate poi vabbè te le cose qua andiamo avanti no il caricamento ok la vogliamo far vedere perché ci piace farla vedere no io voglio farvi vedere un secondo dopo io farvi vedere le frasi andiamo un po' avanti se no ecco dove filmavo io il cielo però comunque ero molto le mani di lollo si sono notate per un secondo le mani di lollo non so se è un bug ma queste fricce che si chiamano ecco ah no ve lo farei vedere il mio telefono si trattano tutti in un colpo adesso vi faccio l'administrazione forse perché io a vedere forse c'è anche il nuovo mod infatti si c'è un nuovo si c'è un nuovo che fa ecco aspetta ecco forse visto ecco questa cosa questo coso minuscolo era un mio telefono c'era pure un pinguino pingou pingou adesso questo è un video un po' noioso dopo un po' ma che è bellissimo quindi facciamo voglio farvi vedere questo voglio farvi sentire le mie frasi che non si capisce nulla però vabbè è arabaico italiano ma questo non è una reazione che tu le hai già visti però io io lo so come ho fatto i video cioè è un anno fa però io l'avevo già visto cioè mi sono messa a guardare un po' di tipo un po' di tempo fa e sono molto stupidi cioè non hanno senso e poi durano pochissimo questi 5 minuti è meglio così non si blocca è meglio così non si blocca oh puta è meglio però così perché noi abbiamo computer internet schifosi quindi valendo comunque in questa nuova puntata è è è questa nuova puntata è se no sei nel nostro primo episodio del nostro il secondo episodio non so se lo fanno fare nel primo episodio del nostro secondo canale di animal crossing perché nel nostro canale avevo fatto già nella cosa ho detto nell'atto canale nel lato nel lato canale sembra tipo che nel l'elite no dopo l'ho caricato questo quello li faccio perché ma ha presenza c'è il canale il secondo canale si però non ne ha di nemmar è un video si ma non ne ha di nemmar prossimo ecco adesso voglio farvi sentire come dico scusate se ci sono dei motivi di litigio scusate un scusate primo video secondo pazienza scusate scusate scusatemi ma ci possono essere dei tipo di non riuscivo a dire non riuscivo a dire che c'erano cioè che ci sono non riuscivo a dire adesso che tipo ad un momento vei litigavano ecco molti litigio tra me lollo però di Cosmi si chiamano di oh di oh non mi ricordavo altri vincitori non mi ricordavo ho detto non lo so non ho scordato bene non mi ricordavo le persone che incontrivo diventeranno famosi si si avrò avuto cinque iscritti però vabbè molto famose veramente adesso possono diventare molto famose tra virgolette però vabbè lo so penso che l'avevo fatto provato però dopo l'ho fatto provato a mia mano se l'ho scritto no? cioè notate come filmavo si vedeva tutte le robe guarda solo sulla scrivania la squadra la penna questa roba che non so cosa sia i carichi batterie del computer tutto tutto non filmavo ci siamo un iscritto io io te e io con l'altro con l'altro a casa tre iscritti le persone che incontriva diventeranno famose tre iscritti io non puoi sbuati ti stessa eh sì no tu non sei iscritta adesso si 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 no due non è che io con il mio questo canale io sono iscritta cioè non so sarebbe stato povero due due eh guarda che ci sono finato ma c'è scusate ora faccio pause perché è un po' lungo qui quindi potrebbe essere molto lungo quindi vabbè vabbè ok rieccoci vediamo chi c'è che c'è New York vediamo chi c'è no Cecilia Cecilia buiù madame c'è New York buiù madame cioè c'è una cinta ma perché vai a colicire tutto il mondo no aiuto scusate ma l'anna è tua ciao scusate ma è un po' difficile sto giocando a micro quindi potete sentire non lo so sto uccidendo uno slime imbisibile con il suo commento sto uccidendo uno slime imbisibile certo No, sciglia, se mi guarderei mai così, 13, io ho 12, ho te, ho 14, e poi in realtà non mi ha mai risposto, io ho detto soltanto. Qua si è sentito un rumore normale. Sotto fatto si è sentito brrrr, che era il computer, che l'onna mi ha fatto esplodere le robe. Non l'hai neanche ascoltato, mi sa, vabbè, fatti dentro. Cosa gli hai detto? Ho detto saluta YouTube, a me sa che non l'hai neanche ascoltato, meglio per me, perché la mia faccia non si vede. Ecco, quello è il mio telefono, la mia faccia non si vede. Ah, ah, non potrete mai sapere come sono fatta. Ricordatevi questa frase, non potrete mai sapere come sono fatta. E te hanno scoperto come si è fatto il mio canale. Sì, infatti, vado a telecancellare tutti i suoi video. Ah, vi consiglio di passare dal canale di Lorenzo, che lascio il link in descrizione come sempre. Iscrivetevi, che lui fa video su Minecraft, su Minecraft, su teorie di FNAF, quindi se vi piace di FNAF iscrivetevi. No, non lo dico, se no dopo mi dice quando è finito il video, è capitato il video, quindi dopo c'è in tre anni. Ah, notare mi ha descritto una sposa che non c'entra niente, però non ti prego. Se mi state chiedendo, sono stupida. No, non è troppo bella, aspetta questa parte. Allora, la parte più bella di questo video, ascolta. Non so cosa sto facendo, se mi state chiedetemi, sono stupida. Se mi state chiedetemi, sono stupida. Se mi state chiedetemi, sono stupida. Sì, stupida, sì. Sì, stupida. Se quando io gioco, cioè io sembra nel gioco tranquilla, serena, molto serena, molto serena. Tranquilla, che non urla, che non fa niente. Non c'entra tutto. Queste streghe sono attenzione. Non potrete mai più vederle in mia faccia. Non si vede le mie faccia. Si vedono i miei pelli, che sembravo un leone africano. Però, beh. Non si vede. Si, ho una pettinatura da paura, però. Non più. Ok. E quindi ciao a tutti e al prossimo episodio con Anna. Ciao a tutti e al prossimo episodio con Anna. Ciao a tutti. Che stai facendo? E ciao anche Cecilia, se mi vedrai questo video... Non l'ha mai visto, quindi ciao. Ora voglio fargli vedere... Questa canzone è molto brutta. Ok, spero che questo video... Un po' caso. Mi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.